Io direi che possiamo iniziare, altrimenti diventa anche tardi il particolo sviluppo che abbiamo a seguire. Signori buongiorno, a nome della fiera benvenuti a questo convegno che ringraziamo a chi l'ha organizzato, il CFS di Belluno, le associazioni di categoria, le associazioni di tutti gli ordini professionali e praticamente vi lascio a quello che sarà il convegno degli argomenti che andate a trattare e vi auguro buon lavoro. Bene, grazie Vice Presidente. Ringrazio il personale della Scuola Edire per l'aiuto che mi ha stato dato ad organizzare questo evento. Ringrazio l'ente fiera, i relatori, le parti sociali e le categorie professionali che hanno accolto il nostro invito. All'indomani del 28-29 ottobre ci siamo resi conto di cosa fosse successo e dalla segreteria abbiamo iniziato a chiamare i ragazzi della scuola per raccogliere le loro testimonianze. Nei giorni seguenti, andando in giro per la provincia al lavoro o spostandosi per altri motivi, sul territorio abbiamo potuto osservare due cose. La gravità dell'accaduto, l'importanza della formazione professionale erogata da CFS, visto che erano proprio i nostri ex allievi ad operare in molti sui, anche pericolosi. Come pure i volontari della protezione civile che da noi avevano approfondito le tecniche di utilizzo delle attrezzature e delle macchine in movimento a terra. Analoga considerazione, in merito all'importanza di poter contare su maestranze che operate, ci è stata espressa dall'ingegnere Osvaldo Carniel, che con la nostra scuola è legato ad un sentimento molto importante. Infatti fu suo nonno, il geometra Saldo Carniel, più di 60 anni fa, a fondare la scuola per meccanici e scolto vestito. Come consiglio di amministrazione e personale della scuola, abbiamo quindi deciso di aprire una sottoscrizione a favore dei territori bellunesi colpiti dall'Urgana Novaia. A questa nostra iniziativa ha voluto affiancarsi con la loro iniziativa il Lions Belluno, la Cassa Agile di Belluno e le scuole di Lidia del Veneto. Chiederei al Presidente della Provincia di portare il saluto, Paolo Padrini, chiediamo. Buongiorno, non vi faccio perdere tempo perché mi hanno comunicato che siete in gravissimo ritardo, quindi da parte mia solamente un grazie di cuore per il gesto di solidarietà che fate come scuola e ovviamente come Lions e la fondazione Carniel. È un ulteriore contributo e un gesto che si unisce a quelle tante manifestazioni di solidarietà che questo territorio ha ricevuto l'indomani di quello che ci è capitato il 29 di ottobre. Quindi da parte mia non posso che veramente esprimere un ringraziamento che poi è allargato da parte di tutta la comunità bellunese che ha sofferto tanto ma ha dato una grandissima dimostrazione di ripartire grazie, come diceva prima Osvaldo, che fra l'altro è stato mio compagno di scuola, che ha dimostrato grande professionalità in tutte le operazioni che sono state fatte, di prevenzione ma anche di attenzione ma soprattutto anche di intervento post-emergenziale. E questa è una grandissima dimostrazione e penso che un contributo importante l'ha dato anche la scuola avendo formato delle brave e ottime professionalità che hanno contribuito a facilitare anche queste opere così impegnative e difficili. Grazie a tutti e buon convegno. Grazie, 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 grazie mille, grazie di cuore, bene, grazie. Bene, grazie, abbiamo chiuso la prima parte di questo convegno. Allora, buon pomeriggio a tutti e ovviamente corre l'obbligo, ma lo faccio con veramente piacere, di ringraziare la presidenza della Scuoledire, il presidente e il vicepresidente, il mio collega Danilo Bezzagliato, il direttore della Scuoledire, per avermi invitato a questo seminario qui da voi per provare a portare un po' un'esperienza che stiamo facendo in giro per l'Italia e che abbiamo fatto anche qui nella Scuoledire di Perugno, per cercare di capire come gli strumenti che noi in qualche modo quotidianamente utilizziamo, che possiamo sintetizzare in questo benedetto telefonino internazionali, per gestire la direzione lavori e la sicurezza cantiere. Presentare un libro ovviamente di carta che parla di un telefonino è un po' una contraddizione interna, non lo so, quindi ne approfitterò per farvi vedere degli esempi concreti, vedremo un po' che potenzialità ci sono, e cercherò di concentrarmi ovviamente sugli strumenti più semplici, quelli conosciuti da tutti, parlo di un classico Whatsapp che bene o male, mia madre che ha 82 anni, che era proprio arrestia al telefonino, non lo voleva parlare, il telefonino non è una cosa per la mia generazione, però siccome viviamo in paesi diversi, siamo a distanza, ma quando ha capito che poteva dialogare con i nipoti, vedere le loro foto, fargli le telefonate online e parlarsi vis-à-vis, provvisamente è diventata un muro di Whatsapp, cioè 82 anni lo utilizza in maniera veramente eccezionale. C'è stato proprio un passaggio culturale, di idea, ha capito la finalità, ha trovato il vantaggio, mi vedo i miei nipoti, lo utilizzo subito. Inizialmente no, invece era proprio, non mi interessa, non sono interessati. Ed è un po' il problema che ci stiamo trovando per chi come noi vive nel mondo, nel settore dell'edilizia, che è un po' incatenata tra due flussi storici che si stanno in qualche modo realizzando e che trovano nella gestione del cantiere però un punto ancora più. Perché se noi ormai, come diceva giustamente il direttore, dobbiamo essere competitivi e da una parte c'è tutto l'industria 4.0, i vari settori, la meccanica, la chimica, tutta la parte produttiva italiana ormai è fondamentalmente concentrata in industria 4.0. Quindi l'inserimento dei robot nella linea produttiva, l'utilizzo delle intelligenze artificiali per la manutenzione e la programmazione dei cibi produttivi, l'Internet of Things IoT per comunicare tra i vari apparecchi, tra i vari macchinari e permettere anche il monitoraggio e le performance delle varie prestazioni del ciclo produttivo. Questa è l'area. Dall'altra parte anche i servizi ormai stanno andando in questa direzione della digitalizzazione. ma se ne contano centinaia, la più banale anche per i professionisti la fattura elettronica. Problematiche da morire, però ora non è più cartacea, è digitale, come l'identità è digitale. Io col tesserino sanitario sul sito gov.ts vado con il mio codice a barra e vedo le mie spese sanitarie in tempo reale. il medico che ora fa le ricette per gli assistiti in digitale. Quindi anche il... E qui possiamo poi parlare, vorrei parlare della borsa, gli investitori che ormai sono gli algoritmi che in tempo reale, in microsecondi, fanno transazioni di milioni di euro, di miliardi di dollari su scala planetaria. Qui stiamo andando veramente su un cambiamento grosso. Quello che invece sembra ancora molto restivo, un concro molto diffidente, non ne capisce i termini, i margini, a farsi un po' contaminare dalla digitalizzazione, è sostanzialmente il settore reale. Anzi, per la verità, non è esattamente così. Storia di dire, se io lo leggessi dal punto di vista, per esempio, dei professionisti, beh, in effetti, se ora io dico il BIM, quindi il ripensare la progettazione, quella che ai miei tempi quando abbiamo iniziato la facoltà di architettura, ancora il CAT non c'era, io sono rientrato che c'era ancora l'MSDOS della Microsoft, Word non esisteva assolutamente. Beh, oggi siamo già a livello del mago, poi abbiamo iniziato il 2D, il 3D, la realtà che è aumentata, c'è una realtà virtuale e la realtà aumentata e oggi siamo sul BIM. Quindi, lato professionisti, quindi, dentro lo studio, diciamo che sta cominciando a muoversi in situazioni digitali, anche se da tale frontiere sono molto spostate più avanti, l'autodesk, notoriamente la fornitrice dei principali software, in questo momento sta già lavorando con l'intelligenza artificiale, per cui io non disegno più, chiedo all'intelligenza artificiale di mostrarmi degli schemi su cui io posso intervenire e modificare, no? In paragone un po' con la sanità. In questo momento, non dico in California insieme con Valle, ma al Fatebene Fratelli, quindi Roma, insieme anche a Milano, le diagnosi sulle radiografie, c'è sempre il medico ovviamente, c'è il radiologo, ma le diagnosi sulle radiografie non viene assistito da un'intelligenza artificiale per fare la diagnosi. e sono aumentate in termini di precisione del 400%, perché? Perché queste macchine non dormono, non mangiano, analizzano milioni di radiografie, prima si fanno il loro background, capiscono l'interpretazione dell'immagine e poi forniscono l'assistenza al radiologo. Autodesk sta facendo così, sta allenando le sue intelligenze artificiali, gli sta dando in pasto migliaia di progetti per cui io non debbo progettare sin da subito da zero comincio a fare le varie linee e poi mi faccio le sagome in generale, no, 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 è l'assistenza, l'intelligenza artificiale che mi assiste nella progettazione. Mi dice, lei quale schema si potrebbe partire? Io gli dico, beh, ho questa situazione, il terreno è fatto così, i volumi, devo contenerli così e quella mi risponde con schemi progettuali. Impressionante. Come il medico, anche architetti, ingegneri, geometri, cominciano a doversi confrontare con l'intelligenza artificiale e quello, non ci sono altri sbocchi in questo momento, pericolosissimo per certi versi. Bisogna avere la tecnologia in dentro, bisogna vedere come noi umani poi la utilizzeremo. E questo, diciamo, lato professionisti. Se vogliamo lato produzione, lato cantiere, anche qui l'automatizzazione sta cominciando ad andare avanti, anche se è meno conosciuta, meno vista. No, perché se io parlo di BIM, beh, credo che ormai gli ordini professionali sono ovviamente tutti impegnati a fare corsi. Si faceva il tempo del CAD, Computer Aided Design, il computer che aiuta la progettazione. Ora siamo tutti concentrati sul discorso del BIM. sul livello del ciclo produttivo i meccanismi sono ancora in Italia meno conosciuti, un po' di più Francia, un po' di più Germania, ma l'industrializzazione del cantiere è molto più avanti. Non dimentichiamo che la prefabbricazione e gli stilemi della prefabbricazione nascono in Francia e gran parte di quelle che oggi noi chiamiamo le balliere, note per tutti i problemi dell'integrazione razziale e che oggi si chiamano anche in parte gileggiari, beh, lì sono tutte prefabbricate. Quindi, mentre noi abbiamo una cultura del centro storico, del recupero, della differenziazione dalla parte greca a quella romana, medioevale, rinascimentale e su Salendo in Francia la parte invece soprattutto delle grandi periferie è una periferia di rinascimento. Allora lì le stampanti 3D e la possibilità di creare direttamente senza persone la prefabbricazione, quindi moduli abitativi fatti in 15 giorni da 120 metri quadri in uno con le stampanti 3D cemento armato resi di plastica sono ormai una realtà di fatto. In Germania abbiamo visto un intero edificio scolastico conforme ai migliori standard delle certificazioni leggete quindi di alta efficienza costruito con le plastiche di recupero. Quindi l'economia circolare recupero la plastica mi faccio un materiale buono per le stampanti 3D stampo prefabbrico e costruisco sulla base di un BIM che mi sono trovato a svegliare. Abbiamo tantissime anche attività di robot per esempio per la stesura degli asfalti per la stesura delle pavimentazioni ormai ormai anche però qui in Italia ancora il cantiere automatizzato se ne sente parlare ma non è effettivamente un elemento che ancora esiste ed è consolidato. Qual è il problema di mezzo tra la progettazione di BIM e comunque una realtà costruttiva che sta andando ad automatizzarsi e che di mezzo c'è il cantiere e il cantiere è fatto di persone di professionisti che fanno la direzione lavori di imprenditori che con le loro maestranze si attivano all'interno del ciclo produttivo e realizzano quello che è stato progettato i fornitori che arrivano con le loro materie prime dalle piastrelle alla fornitura delle malte ai ferri al legno e a seconda del progetto tutto quello che serve e poi realizzando e poi vari cotinisti lavoratori autonomi e in questo momento i grossi specialisti che stanno prendendo in mano il mercato delle costruzioni gli impiantisti ovviamente gli impiantisti in questo momento hanno una dominanza tecnica importantissima perché si chiama impianto d'allarme si chiama risparmio energetico si chiama idomotica quello che volete ma fondamentalmente l'impiantistica comincia ad avere il predominio sulla parte scoloturale ormai se avete visto i rapporti ultimi che sono stati fatti da Ancel la associazione nazionale dei costruttori insieme con il Cresme e l'organismo di ricerca che tra le varie cose analizzano il settore ormai la parte impiantistica ha cominciato a diventare dominante in termini di valore aggiunto questo è importante non in termini di volumi ma di valore aggiunto rispetto all'edilizia tradizionale bene qual è il senso di questo libro e delle cose che vorrei farvi vedere qui in presa diretta quindi non lo sarò solo più a parlare ma vedremo come posso utilizzare questo affarino che porto con me ogni giorno e come questo può aiutarci a gestire in digitale lo sviluppo del cantiere perché abbiamo da una parte i vari BIM e lo sviluppo del progetto in digitale dall'altro abbiamo un cantiere che del digitale non ne vuole sapere perché ci sono le persone perché ci sono i fogli di carta perché ci sono le visite ispettive perché ci sono i fornitori che arrivano con la bolla di accompagnamento e poi hanno la firma sulla carta perché gli schemi di progettazione poi li stampo sul plotter li stendo sul tavolo della piegatura dei ferri e li guardo e comincio a dire ok la sezione in cui mi dice che lo scavo qui mi dice che la sbatacchiatura deve essere fatta così il monteggio c'è il PIMUS e montarlo in questo la carta è predominante per cui abbiamo un livello esponenziale da parte della progettazione per la digitalizzazione la sagrada maggioranza degli ordini arrivano in digitale anche se io li vedo su carte i fornitori ma non so se la vedete da quando Amazon spedisce a casa di tutti gli italiani circa un terzo delle merci che circolano sul territorio nazionale la logistica ne ha approfittato per cui i grossi fornitori mapei big mat dei distributori hanno il loro sistema ormai tutto sul cloud in digitale per cui è vero sì che io arrivo e vedo la piastrella vedo il cemento vedo la malta il sacco del cemento lo vedo fisicamente con bolla di accompagnamento ma dietro ho un sistema di ordini che parte con messaggi che vanno dal telefonino sino a una gestione della fatturazione elettronica automatica è tutto in cloud cioè funziona attraverso le redi funziona attraverso l'internet quindi abbiamo questi due estremi che si stanno organizzando poi arrivati in cantiere tutto frena tutto torna alla tradizione la carta è predominante la domanda potrebbe essere e va bene come facciamo a digitalizzare un cantiere quando i due estremi non si toccano come facciamo a digitalizzare un cantiere quando nell'esperienza formativa abbiamo fatto una scuola edile dove abbiamo istruito se mi posso permettere ma aiutato ma aiutato a capire la logica del telefonino ai capimastro di un'impresa edile che aveva bisogno di migliorare i tempi di esecuzione in cantiere di controllare meglio il cantiere ma i capimastro erano albanesi di origine e quindi già il rapporto con la lingua italiana c'era ma non era di altissimo livello come faccio a far dialogare una maestranza che non è in grado ancora nemmeno forse di parlare o perché usa il dialetto o perché non è del nostro paese come faccio a farlo dialogare digitalmente col tecnico anche che fa perché il mio amico è delegato alla direzione lavori ma lo faccio anche per la sicurezza cantieri come faccio io a rendere digitale un percorso di pericolo grave e imminente comunicazione al committente sospensione dei lavori e tempistica per recuperare il rischio evidentemente prodotto che vuol dire come faccio con un telefonino a fare tutte queste operazioni allora è chiaro che abbiamo cominciato a ragionare con le imprese quindi era un corso dedicato ai imprenditori tecnici degli imprenditori quindi direttori direttori tecnico di cantiere e capimastri albanese nel caso della nostra sperimentazione quindi è ben italiano come questo strumento può riuscire a permettere l'unione di questo trittico che si scontra nel cantiere con una digitalizzazione del progetto una digitalizzazione della logistica ma non nel cantiere allora vorrei farvi vedere qualche esempio di come l'abbiamo fatto ripeto utilizzo Whatsapp perché è quello più diffuso è quello che mi ha permesso in qualche modo di come ho fatto con la mia madre di vincere questa questa ritrosia nei confronti della tecnologia ma sia nel libro ma sia nei seminari che tengo degli ordini professionali delle scuole divi lo faccio vedere anche quanto ci sia di non conosciuto per esempio di Facebook 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 Business non è conosciuto Facebook Group Business non è conosciuto ma anche Whatsapp c'è un Whatsapp Business che è diverso da Whatsapp ma fa altre cose ma esiste anche per esempio Workplace di Facebook che non è conosciuto da noi ma se parlassi della Google Suite e della possibilità di orientare in tempo reale la gestione dinamica del cantiere anche questa più o meno tutti noi utilizziamo qualcuno Gmail qualcuno utilizza Calendar non tutti hanno anche la dimestichezza con gli altri programmi che Google gratuitamente mette a disposizione ripetito questo è una cosa anche importante Facebook Whatsapp a voi piace Messenger Telegram Snapchat sono tutti gratuiti cioè l'impresa professionista non deve spendere un euro Google Suite è gratis per gli utenti di Gmail a pagamento se volete fare una versione importante superiore che riorganizza l'intero sistema ma fondamentalmente sono gratuiti quindi è chiaro che c'è a disposizione una tecnologia utilizzata da tutti non vado adesso ai vari livelli perché se no poi dovremmo fare le otto ore di formazione ma vorrei farvi vedere partendo anche dalle cose mie molto semplici come possiamo nella logica di cantiere utilizzare Whatsapp anche questi capimasti albanesi avevano Whatsapp perché chiamavano le loro famiglie comunicavano con le loro famiglie ma anche qui la logica è se io sono un direttore dei lavori se io sono un coordinatore in fase di prezzi se io sono un imprenditore non è che ho un cantiere alla volta avrò poi soprattutto in questo territorio questo del bellunese che è un territorio molto vasto ma è un territorio di montagna non è da Lecce non è un altro capo dell'Italia noi nel Salento siamo piatti e quindi le comunicazioni non sono e poi qui prima di arrivare da una parte all'altra diamine i percorsi non sono semplici molti luoghi sono difficili da raggiungere quindi se io come direttore lavori se io come coordinatore ho 5 6 7 cantieri attivi se io come impresa ho i miei laboratori che sono 6 7 cantieri divisi io ci posso essere in uno posso 2 ore dopo andare in due posso 3 ore dopo andare in tre poi basta gli altri 4 fisicamente non riesco a essere allora come posso governare premesso che la presente in cantiere anche qui non vorrei creare delle incomprensioni e insostituibili chiaro non è che con whatsapp con facebook con google non vado più in cantiere e gestisco tutto questo assolutamente non esiste la presenza e la professionalità sono elementi imprescindibili però è chiaro se ho un problema di tempo e non riesco come faccio a sfruttare lo streaming di whatsapp per vedere in presa diretta con altri due tecnici che sono da altre parti come sto facendo il centro del caccio estruzzo come si sta posando la trave prefabbricata e in caso di problema intervenire insieme al collega che sta a venezia e l'altro collega che sta a torino e coordinare da venezia belluno torino e lecce la posa della trave che mi sta creando problemi perché forse non si sa ma si fa lo streaming anche da whatsapp fino a quattro persone possono parlare insieme in diretta e riprendere vedere quello che sta accadendo in cantina funziona pochissimo utilizzato ma in generale qual è un altro problema i contenziosi di cantiere quante volte mi sarà capitato di fare un'opera di essere direttore lavori coordinatori imprenditori e si fa un'opera poi il problema dice ma è uscito il difetto non è stato fatto lo scavo correntamente il materiale che avevo chiesto non è quello che mi è stato portato sì ho fatto il verbale di cantiere ho fatto il giornale dei lavori poi non ti dico negli apparti pubblici non rupe quindi il direttore dei lavori adesso dopo che è uscito il decreto ministeriale nel 2018 che indica le linee guida per il direttore dei lavori ha una contabilità ben precisa da seguire io l'ho fatto un altro esempio ma quando poi il lavoro è inizio per cui il pilastro è stato gettato posato disarmato quello che volete poi a dimostrare che il numero di ferri dentro non era del fi che a me serviva perché per me resta un fi 12 e mi hanno messo un fi 8 ecco ma poi diventa un problema perché ormai la struttura è consolidata certo se avesse avuto il filmato le fotografie di quel momento è certo sarebbe più facile dimostrare in tribunale o nel contenzioso che ho nelle riserve che io faccio alla pubblica amministrazione dimostrare quello che è successo adesso diciamo ma perché hanno valore questo certo che loro si chiama tecnicamente la digital forensic ora i tribunali hanno le sezioni dedicate alla digital forensic perché quanti casi conoscete per cui dalle organizzazioni criminali che sono state sorprese e videoregistrate fino ai divorzi che vengono su per messaggistica ormai i tribunali e giurisprudenza e legge consolidata accettano le prove digitali si chiama tecnicamente digital forensic anzi poiché la parte delle prove ora viene dai telefonini la sezione nuova che è stata creata si chiama mobile forensic cioè i vari RIS i vari tribunali hanno proprio tutta una sezione dedicata a come io estraggo le foto o i filmati dal telefonino perché io in questo momento sono qui sono collegato alla rete wifi e il fornitore di wifi è obbligato per legge a fornire la mia posizione in caso il tribunale gli chieda ma scusate questo simpaticone del verdesca dove era sabato 23 alle 2 e io sono tracciato in questo momento per venire qui non conoscendo la posizione ho utilizzato google maps il navigatore quanti non lo utilizzano google maps quindi io sono tracciato quindi google sa esattamente a che ora sono partito che ho detto avvia e a che ora sono arrivato e questo è una prova per il tribunale che io sono qui insieme a confronto poi potrebbe essere il cantiere e vengo a registrare passare sotto un wifi anche se non sto facendo un wifi il fatto che io ammetto il tracciamento dei dati cioè permetto lo scambio dei dati quindi oltre la telefonia scambio dati perché sembra un unico ma lui fa due funzioni la telefonia importante soprattutto scambio dati quando voi vedete adesso le offerte delle grandi compagnie telecom scusate tim piuttosto che vodafone piuttosto che ilia cosa mettono i minuti o i giga come importanti ora mettono i giga come importanti perché 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 vi scaricate su da youtube un filmato perché whatsappate perché cioè la telefonia ormai informiamo signori signori quindi sono i giga quelli che contano i miei figli non guardano la telefonia o fisso un'ora è quasi tutta gratuita gli sms sono mille no invece loro vogliono i giga perché vedono youtube vedono i filmati sono su facebook si scambiano le chat con gli amici importano i giga la telefonia è diventata irrilevante la telefonia è irrilevante adesso le offerte sono sui giga mio figlio mi fa allora papà scusa questa offerta c'ha 50 giga perché non prendiamo la 50 giga perché vede su netflix i film e le serie televisive su amazon prime ascolta la musica su net su spotify ascolta la musica e quelli sono giga non c'è niente con la telefonia allora tutti quelli sono tracciamenti il sistema ci traccia su tutto allora la giurisprudenza si è consolidata in queste idee bene se io sono tracciato e ho un modo di dare prova che il lavoro è stato eseguito in un certo modo beh vuol dire che effettivamente in caso di contenzioso io sono in grado di dimostrare come è una cosa io imprenditore cosa posso fare non posso essere in tutti i cantieri ma il mio capomastro filma lui lo mette sul gruppo di whatsapp del cantiere e io la registrazione faccio l'esempio forse alla scuola edile ho creato ripeto cose banali che si fanno tutti io credo che quanti di voi posso chiedere non hanno whatsapp e se lo hanno sì mi metto ma devo fare un po' di cose pratiche noi siamo da cantiere quindi ci muoviamo ma non riesco a stare seduto dietro un tavolo quanti di voi utilizzano facebook per fare la foto del compleanno suo del figlio o un gruppo su whatsapp per gli amanti della pesca me capita il gruppo dei genitori della classe 4D dove tra mamma e papà c'è un problema a un certo punto bisogna silenziare il gruppo perché è troppo bene allora come trasporto queste cose a livello professionale immaginiamo in questo momento di essere appunto in un cantiere e quando abbiamo fatto il corso con le imprese qui del bellunese abbiamo creato appositamente un gruppo gruppo cantiere via Leopardi e poi ho fatto un altro gruppo scuole dire di Belluno 2019 dove abbiamo sperimentato in tempo reale con i cambiamasti albanese con i tecnici con gli imprenditori come era possibile scambiarsi le informazioni faccio un esempio in tempo reale noi siamo qui se mi concedete entro nel gruppo cantiere via Leopardi è come se io adesso fossi in cantiere mi permetto di farvi intanto è un gruppo interno quindi non esce su Facebook non è pubblica io ho fatto una foto guardate in tempo reale il sistema sta già caricando la foto sul gruppo cioè come se io stessi dicendo sono qui in cantiere abbiamo ecco ci siete vedete siete tutti qui tempo di trasmissione pochissimi secondi ma io posso dire bene quel giorno riunione di cantiere eravamo io direttore lavori il coordinatore in fase di esecuzione direttore tecnico di cantiere dell'impresa il fornitore e i capimastri e abbiamo ragionato sul coordinamento in fase di esecuzione faccio la foto il mio datore di lavoro non c'è sta nell'ufficio sta controllando i vari gruppi su Whatsapp in tempo reale vede e vede chi c'è nel gruppo cioè ho trasmesso il cantiere in tempo reale io sono a Belluno sono imprenditore io sono a Venezia sono un professionista ho diversi cantieri attivi i miei tecnici sono sul cantiere faccio la foto e io controllo cosa stanno facendo ovviamente posso caricare anche il video per vedere se la posa della trapia prefabbricata sta andando sta andando bene ma non solo quante volte noi abbiamo la possibilità di dire eh dovrei fare un breve resoconto non solo la foto non solo il video ma anche un brevissimo resoconto di quello che sto facendo nel cantiere scrivere un po' di testo allora prima lo butto su carta poi vado in ufficio lo riscrivo sul computer poi lo mando una mail è troppo lungo troppo obbligato vi faccio vedere un altro esempio della potenza della tecnologia e degli algoritmi perché dietro questi strumenti sono tutti algoritmi siamo sempre qui nel cantiere di Via Leopardi e devo fare una breve relazione sono qui nel cantiere di Via Leopardi in realtà mi trovo a Belluno Longarone e sto facendo un seminario sull'uso della tecnologia telefonino per i cantieri chiudo invio in due secondi lui ha scritto tutto mi ha capito ha trascritto quello che io ho detto sono qui nel cantiere di Via Leopardi in realtà mi trovo a Belluno in Verona e sto facendo un seminario sull'uso della tecnologia telefonino per i cantieri Google mi capisce subito non c'è problema io adesso non ho bisogno è in tempo reale voglio fare una relazione più lunga il ponteggio è stato montato con uno strallo che non riguarda l'ala est è più lungo di 40 cm e quindi non è in sicurezza niente lui due secondi e scrive il capomastro albanese gli ho fatto vedere la potenza di Google traduttore ha parlato in albanese è stato scritto in italiano io traduco abbiamo diversi progetti a livello europeo Word chi non usa Word no? voi previsi guardate la nuova versione se avete l'aggiornamento di Word c'è la funzione revisione oh scusami grazie per c'è la funzione revisioni nella funzione revisioni c'è traduzione poi chiedete la traduzione in meno di due secondi italiano diventa tedesco inglese francese quindi io sono imprenditorio devo presentare un'offerta una relazione ai miei committenti che sono inglesi la scrivo in italiano Google e insieme con Word quindi Office me la traduce in inglese quando vado a presentare all'estero le presentazioni ormai non uso più le presentazioni perché vado in tempo reale con 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 il telefonino ma ha tutto powerpoint ti traduce tutto in inglese ti metti i sottotitoli come Netflix senza nessun problema in tempo reale mentre stai parlando ora tradurre è una cosa semplicissima immaginatevi di lavorare come direzione lavori ho bisogno di condividere il progetto con gli altri tecnici qui l'abbiamo fatto prima mi hanno caricato il progetto io l'ho messo semplici non che ne faccio qui semplicemente lo chiedo è visibile ah già si perfetto ma dobbiamo fare la sezione qui quanto capita quante volte sono in cantiere ho bisogno della sezione ho bisogno della planimetria ho bisogno del computometrico ho bisogno dei calcoli del ferro porca mattina li ho lasciati in ufficio se invece come io faccio normalmente ho il mio ufficio in cloud cioè l'ho messo sulla nuvolina io dal telefonino in tempo reale cosa vi serve? perché Whatsapp carica documenti vado sulla funzione documento carico un determinato ecco e ve lo faccio vedere anche qui impresa diretta ecco ho caricato un documento di Banca Muglia che certifica che sì ho fatto avevo bisogno di una fornitura di malta e me la porti e ho capito ma me la paghi ok ti faccio ora c'è le carte di credito sui telefonini io in Banco quando non lo porto più con me la carta di credito ce l'ho tutto sul telefonino pago faccio il bonifico ricevo la contabile online invio sul gruppo dove c'è anche il mio fornitore la ricevuta della contabile di Banca Muglia dove si attesta che ho fatto il bonifico perfetto sta partendo la fornitura di malta ecco come si risparmia tempo in cantiere e si ottiene da generazione se utilizzate Google Pay quello anche di Apple di Amazon fate gli ordini in diretta dal cantiere condividete sul gruppo la contabile parte e l'ordine eh ma mi arriva con la bolla di accompagnamento è cartacea che faccio firmo la bolla di accompagnamento poi dopodiché io ora giusto per fare per esempio scusate Danilo prendo la tua carta prendo la carta mi sentite vero? prendo la carta cosa faccio? fotografo con la mia firma quindi io la bolla di accompagnamento l'ho firmata quindi è cartaceo è fatto ci metto una specifica bolla di accompagnamento della consegna della malta invio ecco è già arrivato al mio datore di lavoro al mio committente al mio direttore dei lavori dove non solo non ho avuto bisogno di scrivere me l'ha scritto l'ho dettato e lui me l'ha scritto ma si vede l'ho presa posta va beh forse a distanza non lo vedete ma qui c'è la scrittura del mio collega direttore della scuola che ha preso degli appunti quindi io faccio vedere che la bolla l'ho avuta poi andrà in contabilità in un ufficio però ci ho messo la firma sola quindi se devo provare di averle ricevute e aver firmato la bolla io in tempo reale l'ho fatto adesso lo faccio vedere ma potrei stare a legge mi ci vuole un'ora e mezzo di volo per arrivare a Treviso poi un'altra ora di macchina per venire a Belluno potrei stare a legge nello stesso tempo reale voi vedreste la stessa cosa non cambia nulla ma potrei stare in Francia in Germania e il direttore dei lavori segue le varie lavorazioni quindi come vedete no vi ho fatto solo Whatsapp ma di potenzialità che ci sono dietro Google Calendar piuttosto che Facebook Workplace che è fatto anche per le organizzazioni internazionali che hanno c'è una quantità però cosa mi è servito fondamentalmente e qui chiudo perché ovviamente sono anche gli altri gli altri colleghi che devono fare il loro intervento io ho portato con me solo il telefonino no manuali no computer no niente ho tutto qui io quanto direttore di una casseghile quando andiamo a fare le misi rispettive nei cantieri e ho bisogno di un documento di un DURC di un'attestazione che mi porto all'ufficio l'ufficio stava a fare fatti suoni già siamo online con Ips e Ina e qui spariamo server tutti i giorni ma quando vado in cantiere il server dell'Ips è lì mica li vedo io ce l'ho sul telefonino quindi vedo il DURC fotografo il codice due secondi dopo il sistema mi risponde sì è quello e la risposta era positiva no non è quello e quel codice corrisponde ad un'altra impresa ho bisogno di fargli vedere a chi c'è un documento lo carico da Google Drive gratuito ho tutti i documenti ufficiali tecnici della Cassa di Ina faccio no no banalmente diciamo ma la legge dice questo è il testo della legge ho portato con me lo zaino ho portato con me i documenti no non ho portato niente tutto il mio ufficio in questo momento se voleste voi chiedermi una cosa della Cassa di Ina io so sto qui ho tutto qui qui né più né meno quindi in effetti e ho parlato solo ripeto di Whatsapp immagino i professionisti immagino gli imprenditori che molte dei tempi persi ho della possibilità di controllare presente vi ho detto noi abbiamo fatto la sperimentazione durante il corso abbiamo simulato uno scavo problematiche ci siamo messi ai quattro cantoni distanti e in streaming con Whatsapp in streaming abbiamo simulato per dieci minuti lo scavo e parlando con il coordinatore il direttore dei lavori l'imprenditore il capomastro inquadrava lo scavo tutti lo vedevamo in tempo reale attenzione franaggio sbalacchiatura non va bene spostati a sinistra tieni la direzione l'abbiamo guidato per dieci minuti eravamo tutti lì alla scuola di Belluno ovviamente ma potevano tuttavia a Pundi a Treviso a Deci a Roma a Milano a Napoli quante volte sarà capitato con gli impiantisti e qua c'è un problema e quindi devo diventare in mezzo l'idraulico l'elettricista il presedire devo coordinarli tutti e tre come uno sta lavorando come facciamo adesso devo fare il centro aspetta telefoniamo telefoniamo con whatsapp in quattro vediamo l'aspetto concordiamo e rimane traccia però del gruppo sì sono d'accordo non sono d'accordo va bene facciamolo così quindi se io in caso due anni dopo dovessi dimostrare che è stato montato così l'impianto ed era coordinato per il montaggio ho l'età perché questi messaggi si possono scaricare ogni giorno farsi una copia di un'età chiedere gratuitamente che google li conservi su google drive cioè l'accordo tra facebook e google oppure ve li potete scaricare su una mail ogni giorno e avere la vostra copia di riserva due anni dopo io posso andare al cantiere e vedere quello che io effettivamente quindi per chiudere BIM lato professionisti logistica e robotica lato produzione cantiere telefonino semplice gratuito ma come vedete dannatamente efficace vi ringrazio per l'attenzione buongiorno a tutti allora beh adesso torniamo torniamo un po' sulla terra consolidamento di muri e terreni ben tanto io sono ingegnere fatigato sono di Arsie da 25-30 anni mi occupo di protezione civile troppo forte ovviamente così allora ho questa idea mi è venuta ancora agli inizi a metà degli anni 2000 e l'ho migliorata con il passato del tempo e alla fine ho deciso di scrivere un libro perché pensavo che di mettere a disposizione quello che avevo trovato tanto a tecnici ma anche a gente in comune e in ottobre l'ho scritto e neanche a farlo opposta ho ipotizzato nel libro degli scenari che si sono verificati proprio in occasione dell'alluvione quindi avevo scritto nel libro sembrava che avesse scritto il libro dopo aver visto quello che era successo durante l'alluvione e questo lo vedremo più avanti allora il consolidamento dei libri cominciamo con alcuni esempi di muri consolidabili qui questo è un muro che purtroppo stava male però è cronato evidentemente per i tratti vicini si potrebbe fare qualcosa col sistema del quale vi parlerò questo è un altro muro ho messo un po' di muri questo è un muro che sembra sano però in realtà si vede che ha una parte aggettante superiore un altro muro con massi con masse abbastanza abbastanza consistenti non tipo ciclobici questo è un muro ho fatto questa foto perché il lampione che paria dall'ombra si vede che è curvo quello è un muro è un muro spacciato è un muro a San Pietro di Cadore che è stato riparato alcuni anni fa e sembra sia ancora sia ancora intanto qui ho fatto questa foto è un intervento sul muro abbastanza alto su un pedio molto ripido che è stato fatto con uso di una piattaforma elevatrice questo è un altro esempio muro che intorno a una scala che aveva delle crepe non si vedono tanto bene però è stato sistemato col sistema questo un attimo un muro molto spacciato probabilmente in provincia di Vicenza questo è un muro in calcestruzzo molto lesionato che meriterebbe di essere trattato con un sistema che troppo proprio avanti un altro muro molto lesionato e molto degradato alcuni esempi di pedi consolidabili il sistema che propongo non è indicato per fare interventi su grandi frane su tutti interventi su difetti del terreno di modesta in Italia che però sono comunque tanti e che varrebbe la pena che varrebbe la pena che fossero trattati prima che diventino fenomeni importanti questa è una scarpata al lato di una strada che probabilmente ha una pendenza non adeguata e quindi si forma si erode e questo è un esempio di un piccolo movimento franoso con la cresta di frana e tutto il sistema che propongo si presta proprio per trattare queste parti terminali delle frane delle piccole frane dei movimenti franosi molto importanti questo è un sentiero che è stato predisposto con uno scavo con una pendenza con una pendenza elevata che il terreno praticamente non è in grado di sostenere e con il tempo se non si interviene applicando delle reti o con un altro sistema evidentemente richiuderà franerà e richiuderà il sentiero questo è un esempio di piccola frana sotto una strada e anche qui probabilmente potrebbe essere fatto un intervento per migliorare la situazione questo è un esempio che si verifica su molte strade quando venivano fatte le scarpate non dico a 45 gradi ma quasi stavano bene funzionavano finché non venivano le prime piogge poi la pioggia è robe il terreno tende a prendersi la pendenza che ha nel suo interno quindi si formano questi questi cittioni sopra la strada che sarebbe opportuno che sarebbe opportuno trattare per impedire che ci siano contenuti rilasci di materiale consolidamento di muri è il primo capitolo del libro anticipo qua di cosa si tratta sono delle banali barre da cimento armato che hanno una testa schiacciata e una punta asimmetrica per i muri c'è anche il ripartitore che poi come vedremo più avanti potrà avere anche forme diverse però è questo è quello che utilizzo più frequentemente ho fatto sotto ho indicato sotto anche una una parte schiacciata con foro per adoperare eventualmente delle chiavarde al posto dei ripartitori qualora sia ritevuto meno impattante sopra il tratto della barra con foro e con chiavarda c'è la punta con il secondo lato femmina praticamente non è altro che una punta una punta che una punta di un demolitore che invece di avere lo scapello o la punta ha un innesto femmina che serve per ricevere la punta della testa della barra che deve essere libro in fissa quando non c'è la punta perché richiede una lavorazione particolare che è piuttosto impegnativa se non c'è la punta speciale si può comunque vivere e figgere le barre adoperare una punta mossa e un cilindro con due tratti con due ingavi sui due lati tenendolo con un guanto in cuoio è possibile comunque fare le operazioni non deve mai mancare la mazzetta perché serve per le operazioni iniziali di puntatura della barra e per le finali di messa a punto di stabilizzazione alla fine e la mazza che purtroppo quando si incontrano ostacoli è necessaria o per romperli o per tentare di far deviare la barra qui quello della tecnica semplice economica di basso impatto sì perché è una banale barra e all'esterno resta o ripartitore o eventualmente il ferro che viene infilato nella 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 parte scherzata della barra e qua aggiungo che sono ho operato all'inizio barre da 14 ho provato quelle da 16 a 18 da 20 sono passato a 12 perché il 12 è il diametro che consente di fare la scherzata e quando penetrano nel terreno si deformano si insinuano proprio e come vedremo dopo questo sarà molto vantaggioso per le fili dell'ancomaggio le barre ovviamente sono barre al cemento all'alto hanno risalti accentuati ma proprio per il fatto che penetrano insinuandosi e vedremo in una in una figura successiva producono un attrito nelle parti concave dove il terreno viene compresso per effetto di questa confattura la pressatura terminale è stata scelta perché è il modo più semplice per creare un risalto che consenta di trattenere il ripartitore la punta simmetrica lì è stato un po' una fortuna un colpo di fortuna nel senso che io avevo pensato faccio un taglio e ho due barre con un unico taglio faccio due punte e questa è stata una scelta fortunata perché per effetto della punta asimmetrica la barra quando incontra l'ostacolo devia e quindi assume la barra penetrando il terreno si insinua e ha quell'effetto che vi dicevo prima è un po' l'effetto del chiodo che penetra nel legno con i nodi quando si incontra il nodo il chiodo devia è difficile batterlo farlo penetrare ma è difficile dopo anche distrarlo qui come l'ho detto modalità di posa generalmente quando c'è un muro per i muri a blocchi regolari generalmente la scelta la posizione superiore di una fessura verticale in modo che quando la barra è penetrata il ripartitore possa andare ad agire sulle due pietre laterali e su quella superiore non si riesce mai a far agire il ripartitore su più di tre pietre in questo modo c'è la garanzia perché è ovvio che nel momento in cui riesco a fermare quelle pietre poi per attrito la forza che esercita questa barra che è stata il vibro in fissa riesce a manifestarsi anche sulle pietre vicine siamo avanti e qua l'esternità delle bare dopo aver assistato gli ultimi colpi praticamente l'uso del martello nelle fasi iniziali per puntare le bare nella fase finale per dargli l'assistenzazione per fare in modo che il ripartitore vada ad agire su più punti delle pietre sulle quali deve fare il contrasto allora il sistema per cui l'ho anche definito l'uovo di Colombo ma in effetti praticamente queste barre vengono in fissa abbastanza facilmente e sono in grado di andare a raggiungere le parti del terreno stabili dove prelevano si può dire le forze per attrito quelle che devono servire per contenere o le pietre del muro o il terreno come diremo più avanti e qua vi ho anticipato il discorso di chiodi eccolo qua le forze che si ottengono all'estrazione sono quelle che si derivano dall'attrito dovuto alla superficie rugosa ma anche a quello per effetto della curvatura e che vedremo nella figura successiva la somma delle componenti dovute all'attrito diffuso e a quello distribuito e a quello dovuto alla curvatura dà la resistenza totale della banda come valori posso dirvi che generalmente le forze di attrito sono sempre di qualche decina di chilo newton qualche decina di quintali arrivano fino a 10 chilo newton per barre di 4 metri e mezzo 5 10 chilo newton sono una tonnellata 10 quintali sono forze notevoli per delle banali barre da cemento armato infisse in pochi in pochi minuti e oltretutto che danno che sono subito disponibili perché nel momento in cui ho finito l'infissione e ho speso energia per infiggerle sono in grado di restituirmela al momento subito non c'è bisogno di maturazione di malte o di qui ho riportato alcuni ripartitori quello che vedrete nell'angolo in alto a sinistra è quello che adopero più frequentemente però potrebbero essere fatti anche come quelli delle figure che vi indico e qui ci sono due sezioni di muro uno aggettante e uno spanciato con le barre vibro e fisse che sono generalmente rettiline nella parte iniziale e poi come penetrano nel terreno oltretutto quello anche più compatto perché in prossimità del muro il terreno è sciolto nella parte del cuneo instabile quindi si lascia penetrare facilmente in modo rettilineo dopo è più compatto quindi la barra comincia a insinuarsi qui ho riportato un prospetto dove ho indicato nella parte centrale le barre le sigle di partitori più fitti probabilmente dove c'è o l'aggetto o lo spanciamento e nelle parti laterali dove il difetto è meno pronunciato e dove eventualmente si vuole comunque conferire un maggior grado di sicurezza al muro può voler la pena diventere comunque delle barre e dei ripartitori in grado di conferire appunto un maggior grado di sicurezza al muro qui ho fatto una foto agli strumenti che adopero che faccio ad operare per fare queste libro e fissioni al centro c'è un martello elettrico un heinel cinese che costa anche poco una una mola batteria che serve per tagliare le barre perché a volte capita che non si riesca anche battendo con la mazza a far penetrare la barra perché se per caso incontra un sasso proprio di testa e il sasso è grosso a un certo punto bisogna rinunciare e tagliare la barra si può eventualmente se è comunque penetrata a sufficienza tagliare aprire con uno scarpello non c'è lo scarpello nella foto però con uno scarpello si aprono i due lembi tagliati in senso longitudinale e quella quelle due ali della barra vanno ad agire sul ripartitore quindi la barra è in grado comunque di svolgere la sua funzione a sinistra c'è da un anno ho preso un moto un moto demolitore che è molto più comodo perché è subito disponibile è un po' come la motosiga da un colpo non c'è bisogno del generatore da tenere in funzione e quindi è molto più molto più semplice e più efficace nella parte a destra ci sono degli partitori rompelle e quelle cose che vi ho probabilmente disegnato che vi ho che avevo disegnato in precedenza lì ci sono anche quelle barre lunghe messe in diagonale sono dei tubi quassiali che mi sono riservato di parlare magari non si sa mai in un altro libro che però ho operato in questo libro perché possono consentire di inserire dei drenaggi nel terreno a tergo del muro e quasi quasi ve lo accenno adesso perché può essere importante perché molto spesso i problemi sui muri si verificano perché soprattutto in occasione di precipitazioni intense prolungate l'acqua non riesce ad abbandonare il terapieno a tergo del muro per carenza di drenaggio evidentemente la spinta dell'acqua è notevolmente superiore a quella del terreno e quindi il muro cade perché la spinta è superiore a quella che il muro può sopportare allora questi tubi quarsiali sono praticamente un tubo centrale che a volte è anche piedo che è detto spintore un esterno che è detto tubo camicia vengono intissi insieme sempre con lo stesso sistema del martello devolitore adoperato come massa battente una volta che è stato infilato della profondità che mi sono prefisso di utilizzare per il mio drenaggio tolgo lo spintore inserisco il drenaggio e mantenendo il tubo drenante in posizione strago anche il tubo camicia in questo modo io ho la possibilità di inserire un tubo in PVC eventualmente o di pre-standard ma meglio ancora se è un tubo con dei fori trasversali infatti con una mola disco che è in grado di accompagnarmi all'esterno le barre le acque che ci sono all'interno del terapino allora ho approfittato anche di parlare di questo che non troverò più avanti e che ho ritenuto importante perché allora qui riporto fatto due sezioni del terreno uno per un terreno privo di coesione praticamente potrebbe essere un ghiaglione e un altro per un terreno con coesione un terreno dotato di coesione è un terreno che ha anche dell'argilla dell'Ibo che praticamente mentre il terreno privo di coesione quando si scava assume proprio l'angolo il suo angolo di attrito può sarsi in 30 35 40 gradi quello dotato di coesione invece è in grado di assumere tendenze superiori allora per i terreni privi di coesione le barre devono essere più lunghe perché la linea di natural declivio è meno inclinata mentre per i terreni dotati di coesione la linea di natural declivio è generalmente più alta può variare 50, 60 anche 70 gradi allora barre più lunghe per i terreni privi di coesione e barre più corte per i terreni dotati di coesione questo è un dispositivo che serve per può servire per estrarre barre inefficaci ma anche per misurare gli sforzi di gli sforzi che le barre sono in grado di generare praticamente e anche qua si riescono a misurare in questo modo sfruttando il principio della leva misurare sforzi con un dinamometro e 50 kg del costo di non so 50 euro forse anche meno misurare forze fino a 500 kg rapporto 10 cm il braccio della resistenza 100 cm il braccio della potenza tiro sul dinamometro tiro 50 kg misuro la forza di 50 kg questo può essere utile quando ho bisogno oltre che di stabilizzare il muro anche di fornire la giustificazione all'ente o all'ente al comune all'amministrazione provinciale andiamo avanti queste sono le fasi di 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 visione delle bare vi ho fatto vedere la vi faccio vedere la fessura verticale il punto in cui viene infissa i primi colpi battuti con il martello poi si prosegue col debolitore fino a quasi in foto non proprio gli ultimi colpi non devono essere battuti col debolitore perché si rischia di rompere le pietre e poi gli ultimi colpi vanno a sestati col martello per posizionare il ripartitore barri attività continua ho scoperto da un paio d'anni ho visto che queste bare possono essere efficaci per consolidare muri su vendie molto vendenti e praticamente inaccessibili non si possono fare prontesi dove non si può arrivare con una piattaforma perché non c'è la strada sotto perché non ci si arriva oppure anche quando c'è un muro per i passaggi in cui c'è un muro da una parte tra passaggi di tricea in questo caso le barre possono essere giuntate e la particolarità di queste barre è che adoperando un blocchetto per battute centri come quello che è indicato in figura praticamente non è altro che un parallelo epipelo una filettatura femmina pari a quella della barra che viene vibrentisa e qua l'invisione avviene con battute centri che possono essere fatte addirittura con mappello oppure con il demolitore come per le altre situazioni questi sono esempi di due blocchetti di infissione uno per le barre filettate l'altro per le barre varie normali quelle percementi armati ecco questa è una situazione in cui da un muro questi sono due muri contraposti mi viene in mente il caso che ho trovato le cinque terre di un sentiero in tricea con muri da una parte dall'altra ma può essere il caso di tanti muri di fabbricati di picci vecchi per i quali c'è fabbricato contro il terra e a monte è stato realizzato un muro di sostegno che a volte può essere problematico questo è un altro esempio sempre sono frequenti queste situazioni le cinque terre muro dove la pendenza è molto elevata sentieri con muri a valle e anche muri a monte questa la soluzione per rifare i muri probabilmente diventa complicato invece con questo si sistema e si riuscirebbe a consolidare qui ho riportato un esempio di uno dei primi interventi fatti questo è il muro della sagrato della chiesa di Pacelli da notare le barre disposte a quincolce come vi avevo suggerito nel disegno questi sono una vignetta con di muri di cemento armato in blocchi che sono consolidabili sempre come pare questo è un esempio di muro consolidato a Enego in provincia di Vicenza lì è scritto muro pericolante lì da 2008 sono 10 anni ancora anche questo alcuni vantaggi del sistema di consolidamento consentire la conservazione di opere di sostegno esistenti con modeste quantità di attrezzature materiali quindi attrezzature oltretutto che sono adoperate per altri usi perché non c'è l'attrezzatura creata apposta per questo è un martello demolitore che si adopera per demolire però con questo attrezzo con questa punta femmina è in grado anche di svolgere quest'altra funzione poter intervenire in emergenza sia in caso di terremoto che in caso di di menti meteorici sfaravorevoli consentire la conservazione di opere del passato anche per rispetto delle persone che con tante fatiche le hanno realizzate effettuare interventi di consolidamento senza rischio di danno per le parti vicine del muro perché la barra che penetra che viene infissa non crea assolutamente problemi per le parti vicine sono delle banali vibrazioni che non danno problemi a volte c'è anche la possibilità di raddrizzare i muri o ridurre lo spacciamento se si è a disposizione un bobcat o un escavatore con un mezzo che possa esercitare una forza interponendo tra la penna e il muro che si vuole raddrizzare o del quale si vuole ridurre lo spacciamento di pezzi di legno a lungo con questo sistema si possono risolvere anche problemi sto andando troppo per le nuve due minuti sono mamma mia allora devo correre qui se sono due minuti devo correre allora questo è un esempio di muro consolidabile con lastre questo è un esempio di muro come era prima come dopo le lastre possono essere in pietra ma possono essere anche a matrice quando c'è problema di spessore altre applicazioni le salto e questa è l'idea che potrebbe andare bene a mio avviso con le barre fisse in verticale e dei piatti sui lati del muro si dovrebbe riuscire a consolidare anche pareti di chiese mura storiche che generalmente in senso in senso parallelo al muro non hanno problemi ma in senso trasversale possono avere problemi secondo me con questo sistema si è consolidato di terreno questa è una sposta che rimonta questa è la griglia che dopo ho portato anche praticamente all'inizio adoperiamo la rete a doppia torsione con il tessuto tridimensionale della marca ferro mi sono reso conto che il polipropilene del quale è costituito non è indicato perché è ricente del miraggio ultravioletti e anche degli effetti leggero e diseggero è molto meglio questa rete che ho individuato ultimamente che è una rete della Wesker in poliestere e adesso c'è una vinta alla Borghi che prima faceva preaccoppiati con la rete di canapa adesso fa questo preaccoppiato e secondo me è molto molto efficace praticamente cosa succede questo è una rete che propongo da abbinare l'altra è un preaccoppiato questa è una rete che può essere abbinata con una rete a maglia finta della Wesker quella 3,5 mm per 3,5 mm in questo caso con delle semplici rondelle e delle barre fisse tra i due tanti accostati diventerebbe molto veloce l'applicazione tipi di consolidamenti possibili non li leggo ne vediamo a vedere cresta di frana basta scoronare mettere nella sulla pendenza che si desidera o che si può ottenere in base alla situazione locale e poi infiggere le barre che sono più corte sotto e più lunghe nella parte superiore non anche qua non il mio sistema non è fatto per altezze consistenti propongo sempre altezze di 2 metri perché se andassi su altezze superiori dovrei trovare sistema per infiggere barre lunghe siamo in sommità di una frana quindi si presta per piccole piccole creste non come ho detto prima non grandi questo è un esempio un'applicazione per marchine stradali probabilmente forse ci arriviamo e vediamo cosa è successo proprio durante la rullione in una di queste situazioni praticamente l'astra di cemento armato che vengono trattenute da barre vibro e fisse e evitano il cedimento della scarpata questo è un esempio uno degli esempi dell'applicazione di questo tipo qui è arrivata l'acqua è rosa tutto il materiale sotto però la banchina è rimasta là oltre al calcestruzzo ormai dai vado oltre al calcestruzzo si potrebbe adoperare anche legname visto che adesso ce n'è tanto anche per altri usi come magari parlerò in un'altra occasione invece che legname o il calcestruzzo potrebbero essere adoperate anche solo le reti magari quelle con solitamenti arginali sono anni che provo a proporre non riesco ero riuscito anche a farmi finanziare un progetto da un privato dalla latte busche non sono riuscito a realizzarlo perché l'importante è che l'acqua l'acqua erode la sponda ma non erode istantaneamente erode un grano una volta porta via un grano l'importante è far sì che non possa partire il grano che sostiene l'altro quindi non occorre andare ancorarsi a metri in distanza basta far sì che l'acqua non possa portare via il terreno e adesso lo vediamo questo è un esempio di un torrente un intervento che sono riuscito a fare nel 2009 con Veneto Strade forse era sfuggito al non so comunque sono riuscito ed è stato no ne ho fatti due questo è in un'altra situazione e qui dove ho messo la rete ha funzionato perché l'acqua non è più veloce e qua l'acqua passa a 10 metri al secondo anzi molto più veloce che in molti torrenti andiamo avanti e qua arriviamo agli scenari io avevo indicato degli scenari erano quattro allora uno i ponti i ponti sono stati fatti per far passare le acque sotto in realtà ormai tante volte le acque passano sopra ma quando passano sopra cosa succede che le scarpate a valle non sono progettate per ricevere l'acqua che tracima quindi erodono erodono e fino e infatti adesso se non ero c'è la pieta vedete la prima la uno il fiume che scorre tranquillamente poi i simari si formano potrebbe essere dovuto all'ostruzione per detriti ma anche a eccesso di portata perché se il franco non era sufficiente anche un eccesso di portata anche senza anche senza legami potrebbe far tracimare l'acqua l'acqua comincia a tracimare comincia a erodere si viene nel 4 comincia a scavare scava e a volte a volte appunto poi ci finisce dentro anche la gente è successo è successo proprio nella figura probabilmente un evento in Toscana qualcuno forse si ricorda tre operai di Green Power che tornavano dal lavoro e sono finiti anche perché cosa succede? che l'acqua scava sotto resta sull'asfalto perché l'asfalto funziona tra la spalla del ponte e il terreno uno arriva alla pese che ci sia la trava come era abituato a trovarla invece precipita la lavoraggine questo è un altro questo è il secondo scenario i tombotti i tombotti sono i ponti sono i tombi che venivano messi sugli abballamenti e poi ricoperti di terra sono un modo più economico per fare i ponti per superare gli abballamenti allora questi sono fatti però funzionano bene quando l'acqua non tracima e qua c'è il secondo scenario eccolo qua punto uno punto due qua effettivamente siccome non c'è il franco sufficiente basta un po' di legname un po' di ghiaia che si arresta l'acqua comincia a crescere sale poi tracima erode l'erosione diventa più grande e anche qua questa quella è una foto di un ponte mi sembra d'Organì nel 2013 2012 dove ci sono stati ancora dei morti perché nella voragine sono precipitate delle macchine e questo è il secondo scenario il terzo è quello degli attraversamenti stradali e qui effettivamente non ho neanche la colpa perché purtroppo io ho studiato su questo libro dove c'era questa figura che può andar bene per le strade di pianura ma non per le strade nostre e infatti io questo era il libro il mio libro di testo dell'università tanti anni fa perché allora cosa succede qui ho anche qua 5-6 di niente 6 di niente l'acqua che quando c'è solo acqua al suo percorso normale riesce l'acqua riesce a diffluire però se l'acqua comincia a trasportare inerti cosa succede? che gli inerti come cadono si depositano allora si depositano prima all'inizio poi il deposito aumenta finché ostruisce la condotta quando la condotta è ostruita l'acqua non passa più l'acqua tracima e nel momento in cui tracima comincia a erodere a volte ci sono anche dei muri quindi riesce a scavare dietro i muri e a volte anche a per sconeterli a creare danni allora la prima sicuramente la prima cosa da fare l'ho scritto intervento per mitigazione effetti è quella di arrotondare un banale accorgimento che è quello che ho proposto e faremo sui comuni di Rocca Pietro è quello di arrotondare il fondo perché nel momento in cui si arrotonda i filetti fluidi d'acqua è in grado di scorrere senza creare l'imocito quindi l'acqua scorre e si porta via i nitriti e si porta via i nitriti e quindi non è detto perché potrebbe anche succedere che il tubo sia insufficiente anche se sotto l'idea che l'acqua non è che può portare tanti nitriti da ostruire il tubo no e se anche fosse in eccesso l'acqua quella nel momento in cui l'acqua ce n'è che passa per il tubo si porta via i nitriti e quella che tracima è poca e sicuramente non fa danni perché tracima ma rispone sull'erba ma non è in grado di fare danni questo è un esempio di un'applicazione di una pista ciclabile un sentiero dove ho bisogno perché la pendenza fino adesso si sono fatte opere di altro tipo queste reti consentono di creare una terra armata senza togliere e ricostruire il pendio si applicano si crea la pendenza si applicano le reti si figliano le mare che sono in grado di mantenere l'aderente al terreno questo addirittura è un sistema per abbassare la schienza dei muri praticamente ammetto io vado a consolidare devo fare lo scavo per il muro consolido la parte superiore che mi è anche utile per le fasi di costruzione perché generalmente è proprio la parte che rischia di scivolare di penetrare sulle spalle degli operai che stanno lavorando sotto e dopo quella parte che è consolidata per le fasi iniziali può essere utile perché mi consente di realizzare un muro di dimensioni più contenute quindi riesco anche a ridurre la dimensione dello scavo a passare il muro quindi minore impatto invece che avere muri di certe dimensioni vado queste sono delle brille a sacco questo è un corso d'acqua che potrebbe essere applicando delle reti io riesco a consolidare i tratti in curva dove è maggiore l'erosione oppure le frane laterali vado a stabilizzare le parti attive quelle che vi dicevo prima le creste delle frane i cidioni di distacco oppure creare comunque quel sistema con materiale di sito questo è il sistema ma praticamente ma praticamente mi dovete ascoltare perché queste cose qua non le vedete più da nessuna parte quindi allora questo è un sistema per praticamente un pendio io ho bisogno di stabilizzarlo ridurre la pendenza una volta i nostri vecchi facevano i muri a secco noi non possiamo più farli perché sono troppo costosi perché non possiamo sarebbe già una bella cosa ripristinare quelli che ci sono adesso però si potrebbe creare dei tratti a pendenza minore trattenuti da rete con dei tratti aventi pendenza con angolo che il terreno può sopportare anche in caso di e quindi non muri ma salti con rete questo è una soluzione per scarpate rocciose addirittura una soluzione per per le vedute arginali le schede di esecuzione che ci sono nel libro per chi eventualmente avrà modo di sperciarlo argomenti comuni prove preliminari non ne parlo devono essere per i tecnici però è quello che dicevo prima che a volte devono essere anche giustificati verifiche e qui c'è un programma freeware che è scaricabile da internet che consente di fare verifiche di muri e terreni per chi per il tecnico che non allora prezzi prodotti e materiali vi do solo qualche indicazione 7-8 euro per barra barra più ripartitore 25 euro metro quadrato per 25 euro quadrato al metro quadrato per infissioni da terra per due barre a metro quadrato circa 25 a 35 per infissioni da piattaforma destinatari del libro lasciamo perdere e qua devo arrivare a questo perché è l'argomento che ormai mi dovete consentire prima ho parlato dei tre scenari ponti tombotti e attraversamenti stradali un'altra situazione critica che si è verificata è quella delle acque che percorrono le strade praticamente quando succedono eventi importanti le strade a volte possono diventare nei torrenti perché perché l'acqua resta sul piano stradale perché è tanta perché prende quella di pendì perché perché e quando però esce le scappate non sono in grado di riceverla si erodono e a volte erodono la careggiata e a volte distruggono anche la strada allora questi sono esempi di sono foto che ho tirato giù da internet foto fatte appena dopo appena dopo l'allusione del non so anche dove sono alcune foto di attraversamenti stradali a Gosaldo io ho avuto modo di fare un soproluogo con altri colleghi della FOIB poco dopo gli eventi il comune di Gosaldo che aveva chiesto l'intervento di noi ingegneri per quantificare i dati ho avuto modo di percorrere questa strada che va da Don da Gosaldo proprio verso il vecchio confine non è la strada che si percorre adesso ma è una strada inferiore vedete quel blu dei corsi d'acqua che li attraversano qui ci sono stati ho fatto alcune foto ma qui ci saranno 20-25 attraversamenti di questi almeno 15 avevano avuto danni praticamente i danni non si sono verificati solo dove c'è stata solo acqua dove ci sono stati trasporti solidi che hanno struito gli attraversamenti stradali o ci sono stati danni come in questo caso ma in altre situazioni è venuta giù proprio la strada praticamente l'acqua ha demolito la piattaforma stradale questo è un esempio di acqua non è un tombotto è l'acqua che ha abbandonato la careggiata e che ha eroso la scappata qui è un tombotto è un esempio di tombotti fatti male qui ha fatto un tombotto con gli inviti fatti bene però una griglia verticale una solidità una cosa che non dovrebbe mai succedere questo è un esempio di tratto di strada demolita questo è un esempio anche questo da non seguire qui c'è un fallamento con una caditoia in fondo una caditoia non si ottura solo con il materiale solido ma anche con del fogliame questo è un tubo addirittura mi sfugge la parola probabilmente con poca pendenza anche questo intasato qui è l'acqua che è uscita l'acqua in quantità eccessiva che è uscita è aerosola scarpata e qua arrivo questo è stato un intervento sperimentale il primo intervento sperimentale fatto per Veneto Strade sulla strada per Sovramonte allora qui si è verificato un fenomeno di uscita di un grosso quantitativo di acqua dalla caleggiata se non ci fosse stata quest'opera che io avevo realizzato per sostenere la caleggiata che aveva avuto problemi probabilmente avremmo avuto un'interruzione stradale anche in comune di Sovramonte perché questa ha salvato questa ha salvato la strada involontariamente però ho avuto un ottimo prolaudo perché è ancora lì da qualche mese e eccola qua questa è un esempio è l'altra foto presa dall'altra verso ecco e qua arriviamo al miglioramento della funzionalità prima ho già accennato al discorso dell'arrotondamento sul fondo perché purtroppo forse i tecnici ha fatto come facevano io io vedevo le figure del libro non mi fido di quello che riporta il libro e chissà quanti hanno fatto come hanno realizzato le opere che poi hanno creato i problemi che si sono visti allora questo è l'arrotondamento del fondo ma non solo anche gli inviti laterali perché come arrivano i sassi se vanno a battere contro una superficie verticale di testa si arrestano e non ripartono quindi i sassi devono come si può delle linee di flusso continue che accompagnano i sassi verso il fondo quindi anche se i tubi non sono proprio sufficienti ripeto l'importante è che portano via i detriti l'ultima sono arrivato quasi alla fine qui quando si può sarebbe l'ideale sarebbe quella di mettere anche delle griglie delle griglie incrinate lo vedremo adesso nella sezione o addirittura proteggere anche i massi che si mettono alla fine dello sbocco perché anche lì potrebbero esserci erosioni quindi nella sezione si vede la griglia inclinata perché sulla griglia inclinata ha rinti paralleli e non controversi il legname spinto dalla corrente un po' spinto dalla corrente un po' per effetto della forza della spinta idrostatica sale e mantiene libero la parte inferiore per il passaggio dell'acqua queste griglie non devono essere stese fino al fondo ma sollevate in modo che gli inerti possano passare sotto se a volte il tubo non è eroso farebbe la pena di tisciarlo se si riesce ad entrare o addirittura di mettere dei fogli di lamiera inox per far acquistare l'acqua a una maggior velocità possibile questo è un esempio di griglia installata a Zonzo e di Sovromonte questa è un'altra installata a Piedamina a Piedamina sono riusciti a fare 8 di questi imbocchi protetti per eventuali fermiti e qua arrivo anch'io a internet e alla consolidamento su youtube ho messo dei filmati facchinato francesco consolidamenti su una pagina di facebook ci sono delle foto di consolidamenti realizzati ho messo del materiale su link se qualcuno vuole può chiamarvi può mandarvene mail se qualcuno desidera gli lascio anche se non riesce leggerlo basta grazie grazie per l'attenzione buonasera grazie grazie per l'invito cercherò di di essere di stare dentro i tempi e di parlarne un po' di questo progetto magari rispetto all'intervento precedente al mio questo è un'accezione molto 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 tecnica cerchiamo invece di discutere un po' del senso dell'architettura in funzione proprio di utilizzo di alcuni materiali di come alcuni materiali in particolare il legno condizionino molto lo sviluppo del progetto d'architettura fin dalle fasi di concept iniziali io faccio parte di uno studio sono dei tre soci dello studio di Treviso che sta lavorando proprio all'esecutivo sta completando le fasi definitive di questo progetto che inizierà già in cantiere nel senso che stiamo facendo le parti di fondazione però la parte effettiva della costruzione in legno inizierà tra qualche mese il progetto si chiama Crossland Tower ed è un edificio che ha la parte fuoriterra interamente in legno sono 14 piani ed è localizzato agli esolo ora pensando un po' anche all'intervento di oggi vorrei un po' inquadrare che cosa è dal nostro punto di vista l'utilizzo del materiale all'interno di un progetto d'architettura oggi c'è un cambiamento in corso molto forte che riguarda tutto il processo e la filiera di costruzione dell'architettura siamo in una fase che è interessata da nuovi strumenti una fase chiamata BIM se conoscete questo acronimo e parlo ovviamente di come sia possibile controllare il processo a monte con nuovi strumenti mi riferisco al controllo numerico della produzione ad esempio che avviene nelle costruzioni in Ixlam questo significa che in qualche maniera l'architettura comincia a vivere in una fase preventiva che è quella della sua costruzione c'è una fase di pre-costruzione in un processo di ideazione e controllo che avviene molto prima che inizia il cantere dell'architettura questo è sempre avvenuto storicamente ma oggi con questi strumenti il livello di controllo e il potenziale su cui possiamo incidere è molto molto più alto questo significa però che l'architettura non può rinunciare all'idea comunque di essere un'azione di tipo umano nel senso che io ho chiamato questo tipo di azione l'idea di costruire appunto un habitat emotivo prima di tutto quindi in qualche maniera queste due istanze cioè l'idea di controllo tecnologico della produzione dell'architettura e un'idea umanistica continuano a convivere insieme in questa doppia dimensione quindi sostanzialmente siamo dotati di strumenti molto sofisticati però allo stesso tempo i problemi dell'abitare i bisogni delle persone sono gli stessi di sempre sono legati comunque al nostro modo di intendere le motività che l'architettura può produrre nel rapporto tra spazio e persone questa cosa dello strumento come lo strumento sta cambiando anche la forma e lo spazio voi pensate come un tempo la tecnica la tecnologia condizionasse fortemente la costruzione ad esempio pensate al panteo pensate come questa idea di costruzione sia un'idea anche di tipo tecnico ancora prima di essere l'architettura ma è chiaro che l'architettura è mossa da questioni emotive questo strumento lo strumento del controllo deve essere a mio modo di vedere piegato all'idea di architettura e non essere il contrario non essere l'architettura che si piega alla progettazione in senso inverso quello che state vedendo in realtà purtroppo c'è un po' il problema anche di dimensioni delle immagini per voi però alla vostra sinistra c'è un'immagine di un progetto di Snoenta che è un edificio di essenzialmente un punto di informazioni in un parco norvegese in cui l'interno è un'alcova in legno costruita con un sistema di macchine a controllo numerico che riproduce una forma organica questo perché queste nuove strumentazioni di tipo tridimensionale sono in grado di riprodurre un modello digitale attraverso un sistema di fresatura fisica che è in grado di riprodurlo in scala 1 a 1 tornando alla torre la torre parte da una questione fondamentale cioè come in qualche maniera riferirsi a tutta la dimensione di riferimenti di torre che ci sono in Italia solitamente questo tipo di architettura almeno nella storia italiana ha avuto una forte presa e conformazione attraverso esempi milanesi attraverso Porta Lupi Gioponti attraverso Muzio esempi che comunque hanno a che fare con la massa con la dimensione italiana dell'edificio in altezza non è la dimensione dell'edificio americano che è fatto di leggerezza le torri italiane sono torri massive che sono fatte di massa in questo caso specifico a noi interessava continuare a lavorare con questa dimensione con una dimensione tipicamente ripeto italiana però in questo caso il materiale su cui avevo impostato il progetto non era il calcestruzzo non era l'acciaio ma era proprio l'XLAM e questo in qualche modo cambiava completamente anche il modo di concepire lo spazio mentre con la pianta libera con l'utilizzo del calcestruzzo c'è una certa libertà l'utilizzo del legno inizialmente può creare dei limiti e poi vi mostrerò meglio perché la torre pesa 105 tonnellate di legno ed è qualcosa che ha a che fare anche con una dimensione verticale in questo caso sono questo progetto sono 45 metri verticali questa idea se volete è anche un'idea che si ripete in diversi progetti di questo tipo quello che vedete qui è Luigi Moretti con il suo albergo in via in via dei corridori Milano che tratta questa idea della verticale in qualche modo quindi sostanzialmente il progetto lo conosce su due temi uno l'idea di massa e la seconda l'idea di spazio verticale di grande vuoto verticale vi mostro un po' il sito di progetto per quest'area che vedete che in realtà è arretrata rispetto alla linea di costa e che però ha l'ambizione in qualche modo di stabilire un collegamento visivo con lo spazio del mare questo perché non so se conoscete a Jesolo è stata interessata da un piano urbanistico di Kenzo Tange che ha cercato di trasformare l'urbanistica della città ripensandola a partire da alcuni edifici alti che ridisegnano una nuova geografia dello spazio urbano il sito di progetto è quello che vedete qui si trova già in vicinanza di altre due torri già costruite con una tecnologia invece potremmo dire più tradizionale cemento armato e tamponamenti e ha a che fare vedete anche nella planimetria che abbiamo scelto per organizzare il progetto con questa idea anche di permeabilità dell'edificio un altro tema che a noi interessava che è un tema mutuato dal mondo del riferimento dell'arte è quello della semplicità come fosse possibile in realtà con un lavoro di poche linee cercare di definire uno spazio questa cosa della definizione minima è diventata poi un po' un'ossessione nella costruzione anche del concept iniziale del progetto quello che vedete è uno dei primi schizzi sui quali abbiamo lavorato nel quale ci sembrava interessante questa idea della costruzione di due grandi ali sostanzialmente che raccogliessero dentro di sé questi volumi linei e che fossero una sorta di protezione dentro la quale poter abitare e costruire queste residenze questa è una delle prime immagini di fotoinserimento del progetto quindi un po' quello che raccontavo prima cioè l'idea di due grandi ali verticali che nel nostro caso sono anche elementi di protezione energetica perché queste ali hanno installato ed integrato un sistema fotovoltaico che segue tutto il perimetro verticale e orizzontale di queste linee e quest'idea di vuoto tra tra questi questo volume questo vuoto centrale che vedete è in realtà la distribuzione dell'edificio pensata in maniera da istituire un rapporto continuo tra le due direttrici fondamentali che l'edificio ha cioè quella del mare e quella della laguna elettrostante un'altra questione che sta al centro del progetto è il problema della composizione in linea il riferimento che vedete in questo caso a Mondria con un suo lavoro del 16 che indaga proprio questo cioè come lavorare con i setti anziché con i pilastri il problema dei setti è un problema di ripetizione in altezza dello stesso sistema perché l'XLAM ovviamente ha un grandissimo potenziale dal punto di vista delle sue caratteristiche però ha un limite che è quello della sua sovrapposizione in altezza quella dell'impossibilità di liberare la pianta come magari una soluzione a piastra in calcestruzzo volevo un po' mostrarvi come questo questo sistema di setti abbia richiesto un lavoro di avvicinamento molto lento prima di arrivare al disegno definitivo questo lavoro è un lavoro di sovrapposizione e volevo mostrarvi proprio le piante le 45 versioni delle piante che abbiamo fatto nel percorso di costruzione del progetto che sono tutte fatte di un leggero sfalsamento spesso di spostamenti di pochi centimetri tra uno e l'altro questo per diversi motivi il primo motivo molto economico perché un edificio alto è un edificio che massimizza i costi quindi da una parte c'è lo sviluppatore che richiede di calibrare lo spazio al centimetro e l'altro motivo è che questo adattamento che avviene attraverso la sovrapposizione dei setti deve essere un adattamento molto molto schematico che non può prevedere la produzione di più tipologie all'interno della stessa pianta grazie